allora si vede che sono in massa acquoso e cicciottoso e anche abbastanza grosso dai sì un pochettino perché ho messo wallace nel titolo perché porta visual e ragazzi sto video è forte, andatevelo a vedere, SIGLA! La condizione di KRI Grazie a tutti Anabolizzanti si vada a vedere questo video perché non perché voglio fare per forza pubblicità al suo canale che comunque non mi dispiace ma perché mette in chiaro alcuni punti focali secondo me per valutare la persona e il lavoro che esprime e che fa e il messaggio anche che manda che non è proprio assolutamente incoraggiante E qua mi vorrei rifare a una critica nel senso che ha detto il suo pensiero il mio amico virtuale Marco Meloni dove giustamente lui diceva guarda io sono andato a vedere secondo me una persona che incita e io ho avuto subito un'idea diversa dalla sua No c'è chi incita all'uso in modo perché ha degli interessi a vendere a fare dispare e io ho detto guarda non lo so non mi sembra però se è così però non lo so avevo un'impressione diversa e credo poi chiaro che se mettiamo in dubbio qualsiasi cosa che uno dice che fa e allora non stiamo neanche lui a parlare Arrivederci grazie saluto ma è sorta cioè voglio dire mi ha dato questa impressione e di fatto ha dimostrato che la mia impressione era corretta Non penso che sia un pazzo che si inventa le cose poi ne fa delle altre non credo e in questo video chiarisce non vi faccio troppo il prologo perché se no vi perdete anche il gusto di vedere però chiarisce un punto Il punto principale dove lui non vende steroide e chiede di smetterla di continuare a chiedergli vendimi i prodotti anabolics perché perché là dove lui sono legali testosterone va in farmacia senza ricette in colombia e lo compri tanto per fare un esempio e quindi ha specificato chiaramente questo Scherzosamente dice anche sconto del 10% Vladimiro insomma fa una battuta sarcastica sull'argomento anche simpatica E' un gran video secondo me soprattutto per chi vuole iniziare perché veramente ti dice chiaramente come stanno le cose come vanno fatte E se soprattutto se vanno fatte perché il punto è quello perché le problematiche sono tali e tante che veramente entri in un mondo che devi esserne consapevole e soprattutto cosa che dico sempre io Non solo deve essere ormonalmente completato e questo accade da un punto di vista della fisiologia endocrina Endocrina intorno ai 23-25 più 25 anni a dire la verità ma anche da un punto di vista della maturità mentale Entrambi i fattori ci vogliono Quella ormonale cioè fisica Fisiologicamente ormonale o ormofisiologica o winchia No come arzigogolo E mentale da un punto di vista della maturità Fa un ragionamento pressoché non voglio usare il termine perfetto però la realtà mi piace perché uno sincero cioè da questo punto di vista secondo me ci somigliamo Poi lui lavora in un settore dove io preferisco evitare perché non faccio preparazioni specifiche sugli steroidi per persone che si dopano No E non lo voglio fare Lui lo fa Sono scelte poi dove lo fa lui E anche legale tra l'altro Non lo farei comunque io eh Per una scelta mia anche se fosse legale Per dirvi Però è giusto dire le cose come stanno Dove vai a finire poi adesso tutti cioè tutti Alcuni Già mi viene in mente un ragazzo specifico No però perché Wallace è Autoritario quindi dice una cosa Dice no comunque anche se Sì ma come dico sempre Ricordiamoci Che dove cazzo viviamo Su venere Su marte Su sta cioffa di minchia No Viviamo su pianetina 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 Pianetino Pianetino Terra Oh cazzo cata frega Non puoi far finta di Non vedere le cose Per quello che sono no Cioè Para occhi io vado avanti così Per carità uno può fare quello che cazzo vuole intendiamoci Ma Se vogliamo stare attinenti a quello che succede Su questo gran pianeta di merda Dobbiamo tenerne conto che questo è un pianeta di merda Non puoi far finta di niente Questa è la mia personalissima opinione Capiamoci eh You know Quindi Un applauso Va a Igor Montalbano Per questo video dove Veramente Dice le cose come stanno Chiarisce il fatto che lui Non vende prodotti Ed è molto specifico Come dice anche se qua è libero Io non è che vi metto Cioè se qua la libera La vendita è libera Io non è che vi metto a fare Lo spacciatore in Italia Molto Poi so già le critiche Eh beh sì Butta la pietra Nasconde No no nasconde un cazzo Perché casomai È controproducente per i suoi interessi Fare un video del genere Come dice lui Molti tendono a Minimizzare gli effetti collaterali E massimizzare gli effetti benefici No Cioè Non è così Anzi molte volte Purtroppo Il rapporto cambia Tra i due fattori E Posso dire questo perché L'ho vissuta da una parte Da un punto di vista della salute Direttamente Perché ho avuto a che fare Come vi ho spiegato in altri video Con il nandrolone Ma per una questione Di salute Salutistica Come sapete ho avuto un tumore Ho avuto tutta la sera Vabbè Lasciamo perdere E da un punto di vista Anche indiretto Che è lì La vera esperienza Che mi sono fatto Cioè Ai tempi Quando c'erano le persone Che venivano in palestra Io ero piuttosto giovane E vedevo cosa usavano E quanto ne usavano Tant'è vero che questo qua Potrebbe essere Poi vedrò se farlo E quando farlo Un prologo a un altro video Che mi ha suggerito Un mio amico E il mio amico del web Sul discorso steroidi Quali sono i dosaggi In che senso Senza specificare Al milligrammo Ma far capire Che i dosaggi Che usano Mediamente Gli usufruitori Di questi prodotti Prescindendo dal fatto Che siano agonisti Cioè Il doppel Il dopatone Della domenica Colui che si dopa Per sua libidine Per andare In palestra Per andare al mare Per fare i cazzi suoi Sono dosaggi Veramente imbarazzanti Veramente Uno dice Miche ma questo si spara E vorrei fare un video Su questo argomento Facendo anche capire Che tale situazione Derivante Da tali dosaggi Oltre a portarsi dietro Una marea di effetti Collaterabili Ma come cazzo parlo? Scusate Collaterali Si porta dietro anche Un sacco di altre Problematiche Inerenti a mille Fattori vitae No? Dal fatto che comunque C'è il problema legale Cioè E' un gran Purè E purri Di casini Interconnessi Tra di loro Quindi mi piacerebbe Fare un video Con il quale Parlo di queste problematiche Delle mie esperienze Dirette E indirette Di quello che ho visto In tanti anni Accadere sulle persone Le donne Le donne Non ve lo dico Perché Cioè Non ve lo dico Detto in modo ironico Cioè Le donne Sono Le donne Su alcune donne Sono pazzeschi Diventano veramente Degli uomini A tutti gli effetti Ma anche fisicamente Storia Famosa Della Clitoride Non del Della Clitoride Che diventa un mini pene Ad esempio No? A me è capitato di vederne In palestra E Vi garantisco Che è impressionante Comunque Parentesi Questa è una parentesi A parte del mio Eventuale Forse Prossimo video Sull'argomento Ah! E sul fatto che poi Sono anche effetti comunque Transitori Quelli degli steroidi Quindi Ritorniamo a noi Chiudiamo la digression Sul fatto del 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 video Che probabilmente Forse farò in futuro Correlato agli steroidi E Ribadisco Che da un punto di vista Concettuale Di spiegazioni Di verità E Di consigli Anche Questo video Di Igor Montalbano Steroidi A vita Come iniziare Con gli steroidi Anabolizzanti È veramente Utile Uno che Ha intenzione Soprattutto In giovane età In qualsiasi età Ma Ne consigli che dall'inizio Lo spiega molto bene No? Soprattutto chi ha Diciotto anni Poi nei commenti Sotto il video C'è il commento Di uno che Mi ha fatto sorridere Io ho iniziato A diciotto anni Non ho avuto effetti collaterali Quindi si può fare No! Tu L'hai saputo fare Sicuramente E tu Sei stato fortunato Tra virgolette Perché Al momento Il tuo corpo Ha retto Poi io non so Quando ho scritto il commento Quanti anni aveva Bisogna vedere Fra dieci anni Se non ti viene fuori Un bel tumorino Eh? O se ti scioppa il fegato Non ti voglio portare sfiga Però No? Come si dice No? Attirarci Ci impieghiamo poco Se la spiga Incombe Poi il tuo corpo Soccombe Dove cazzo mi va? Vabbè Vabbè Quindi Ragazzi A parte gli scherzi Attenzione Non fate cagate Andatevi a vedere Sto video che veramente Veramente È propedeutico A chi vuole fare uso Di steroidi Nel senso Non che è propedeutico Perché Ma è propedeutico Alla scelta Al pensare Di una persona A iniziare un ciclo Soprattutto in una giovanità Cioè Da farsi la domanda Ma ne vale la pena?